Lei questa mattina ha pubblicato sul Corriere della Sera un articolo che parla della spesa della sanità. Dove l'Umbria è ai vertici? Ma l'Umbria, nel pezzo di oggi, noi dicevamo che è la regione che ha aumentato di più le spese in assoluto. E questo vuol dire che non può essere messa tra le regioni virtuose. Ma questo qui si era già visto anche in altri settori. Parlo di un eccesso di invalidità che segnala una sproporzione inaccettabile. Enti locali che costano più che da altre parti. L'Umbria non è una regione particolarmente virtuosa sotto questo prefilo. È una regione che per altri aspetti è molto più civile di altre, dove sicuramente si vive meglio, dove alcuni servizi funzionano meglio. Però sotto il profilo del risparmio sicuramente c'è da fare. Nel Mani Bucato, dove ha scritto lei, ci sono due nomi altosonanti dell'Umbria, Pula Iacovo e Pugliudori. Sì, fanno parte di quella casta degli imprenditori che ottengono soldi pubblici dallo Stato per fare impresa e che poi fanno la morale liberale al resto del paese. Cioè, secondo la Confindustria e questo tipo di imprenditori, siamo noi italiani che non siamo liberali e corporativi. Mentre loro quando prendono i soldi pubblici, invece, lo fanno in genere con la mano sinistra, nascondendolo un po', non parlandone perché non è elegante, eccetera. Ecco, la cosa che mi ha da una parte divertito e dall'altra depresso a scrivere Mani Bucate è proprio questo, cioè scoprire che c'è un sistema imprenditoriale che prende i soldi dicendo di non averli presi e poi dice a tutti il resto degli italiani che devono essere più liberali. Ecco, questa è una contraddizione. 20 anni fa si rubava per i partiti, oggi per? Se stessi forse, forse per se stessi. Beh, diciamo che Tangentopoli è diventata maggiorenne, no? Ecco, a 20 anni è diventata maggiorenne e quindi si sono evoluti anche... Ma Lusi e Belsito facevano tutti da soli? Io penso che se tu scegli un tesoriere, il tesoriere è il tuo uomo di fiducia, è un po' difficile che poi non sai dove vanno a finire i soldi. Credo che verranno fuori delle sorprese. Se scavassero bene in queste due vicende verrebbero fuori delle sorprese. È chiaro che se tu entri in un partito pensando che sono tutti uguali, il tuo obiettivo è solo quello di fare i soldi. E molti partiti hanno dato anche questa impressione, cioè anche dentro la Lega, diciamo, l'impressione è che qualcuno abbia detto, vabbè, non si può fare la secessione e facciamo i soldi. Ma siamo un paese mediocre? Beh, no, questo è il nostro paese pieno di eccellenze. Abbiamo una classe dirigente mediocre, ma è un paese pieno di eccellenze e sono anzi convinto che se questa eccellenza avesse la possibilità di venire fuori, il nostro paese riuscirebbe a trarsi d'impaccio anche in una situazione difficile come questa. Non sarà più come prima, questo è sicuro, però noi avremmo le potenzialità per venirne fuori. Però, certo, occorre una svolta radicale, molto diversa da quella che si è vista in questi tempi.